L'esperto zodiacale Julian Vinables ritiene che gran parte dell'animosità dei fratelli derivi da una ragione. Il principe Ferry e il principe William mancano e ogni risentimento residuo potrebbe dissolversi nei prossimi due anni, prevede un astrologo. L'astrologo londinese Julian Vinables ha affermato che la ragione principale per cui la relazione tra i fratelli era potenzialmente tesa era che le loro mogli Kate, la principessa del Galles, e Meghan, la duchessa del Sussex, non vedevano faccia a faccia. Parlando con Express della sua previsione, Vinables ha detto che ci sono notizie positive all'orizzonte per il 2024, e il 2035, per Ferry e suo fratello maggiore. Ha detto, gran parte del problema tra i fratelli è che le loro mogli non vanno d'accordo, e hanno difficoltà ad andare d'accordo. Penso che Ferry e William manchino l'uno o l'altro e nel 2024 e nel 2025 ogni risentimento residuo potrà essere risolto, in modo che le famiglie possano essere riunite. Il signor Vinables ha aggiunto che ritiene che l'azienda possa trovare una tregua e una guarigione insieme. Si dice che il principe Ferry e suo fratello abbiano avuto una relazione difficile da quando il duca si è trasferito in California, e ha pubblicato il suo libro di memoria Spera Gennaio, in cui menziona sia William che sua moglie Kate. Il principe di Galles, che è un segno zodiacale del cancro, e Ferry, che è una vergine, hanno molto in comune su cui condividere un legame, ovviamente con la tragedia della morte della madre, la principessa Diana, ma anche nella loro condivisione esperienze di crescita come reale, e di aver prestato servizio militare e addestrato come piloti.